Musica Approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione in cui si chiede il cessate il fuoco a Gaza per tutta la durata del Ramadan e l'immediato rilascio degli ostaggi israeliani. L'attentato a Mosca in manette, altri tre sospettati comparsi in aula con i segni delle torture i quattro fermati sabato allerta terrorismo in tutta Europa, al Viminale il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Quasi 6 milioni di italiani sono in povertà assoluta, un dato stabile dice l'Istat ma i costi per le famiglie sono esplosi a causa dell'inflazione. Paura tra la gente a Roma, sparatoria in strada nel quartiere della Magliana ferito un sessantenne, indaga la direzione distrettuale antimafia. A Popei una scoperta archeologica che ci aiuta a capire come si costruivano muri e case nell'antica Roma portato alla luce un cantiere attivo fino al giorno dell'eruzione del Vesuvio. Buonasera, un cordiale saluto dal TG2000. Apriamo con il Medio Oriente. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede il cessate, il fuoco a Gaza e il rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Il servizio di Massimiliano Cocchi, vediamo. Questa volta gli Stati Uniti invece di porre il veto e bloccare tutto hanno scelto l'astenzione consentendo così al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di approvare una risoluzione in cui si chiede un cessate il fuoco a Gaza per tutta la durata del Ramadan e il rilascio immediato ed incondizionato di tutti gli ostaggi israeliani. Una decisione attesa, non attuarla ora sarebbe un fallimento imperdonabile ha commentato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Contrariato, il premier Netanyahu ha bloccato la partenza per Washington della delegazione che, come concordato con il presidente Biden, avrebbe dovuto esaminare le alternative all'invasione di terra a Rafa. Dunque, l'esercito israeliano potrebbe ora accelerare l'intervento nel sud della striscia dove decine di persone sono rimaste uccise nei bombardamenti che ieri hanno colpito edifici civili. Le vittime delle ultime 24 ore in tutta la striscia sono oltre 100. E mentre l'esercito stringe la morsa attorno all'ospedale di Al-Shifa dove si ritiene possano aver trovato rifugio i leader di Hamas, le autorità israeliane hanno bloccato qualsiasi consegna di aiuti alimentari nel nord della striscia da parte dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Profughi Palestinesi. Questo vuol dire negare la possibilità di sopravvivere a chi sta soffrendo la fame, ha detto il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. A Mosca ha arrestati altri tre sospetti per l'attentato di venerdì. No commento del Cremlino riguardo ai segni di tortura sui volti degli altri quattro arrestati. Ci riferisce Antonio Soviero. Dopo la giornata di lutto nazionale, il Tribunale distrittuale di Mosca ha disposto l'arresto con l'accusa di terrorismo per i quattro autori della strage, 137 morti, 3 bambini e 182 feriti, venerdì sera al Krukus City Hall della capitale russa. Tre di loro si sarebbero dichiarati colpevoli di tutte le accuse. Sono tutti originari del Tajikistan, un'ex repubblica sovietica nell'Asia centrale, e sono comparsi in aula con evidenti segni di tortura. Gli inquirenti non si sono preoccupati di celare i segni delle violenze, un messaggio forse ai nemici interni. Questo è quello che succede ai terroristi. Il Cremlino, che da subito ha puntato il dito verso l'Ucraina, non ha voluto commentare i video circolati sui social media che sembrano documentare la brutale tortura dei sospettati. In uno si vedono uomini dell'intelligence che tagliano l'orecchio di uno degli arrestati e glielo infilano in bocca. Nel pomeriggio di oggi lo stesso tribunale moscovita ha confermato l'arresto di altri tre indagati per l'attacco del 22 marzo. Sono un padre e due suoi figli accusati di aver preso parte direttamente all'azione terroristica e poi fuggiti. Mosca non commenta neanche la rivendicazione del sedicente Stato islamico e assicura che non c'è ancora un'ipotesi definita sui responsabili della strage. Dobbiamo uccidere gli attentatori, chi ha pagato, chi ha simpatizzato e chi ha aiutato, così il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Medvedev, dando forza al dibattito riaperto in Russia sul ripristino della pena di morte per terrorismo. Putin ha avuto un lungo colloquio telefonico col presidente del Tajikistan e ha convocato un incontro per discutere le misure da adottare con i vertici delle forze di sicurezza. E infatti tutti si chiedono quali decisioni prenderà il presidente russo colpito proprio sulla sicurezza interna, pilastro centrale del suo governo autoritario. Nuovi attacchi russi su Odessa e Kiev. L'Unione Europea chiede al Cremlino di non prendere a pretesto l'attentato a Mosca per aumentare l'aggressione all'Ucraina. Ci dice tutto Vito De Torre. L'Unione Europea condanna gli attacchi missilistici russi contro l'Ucraina. È l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri a prendere posizione contro Mosca, che ha usato 190 missili, sono le parole di Josep Borrell, per colpire i civili e distruggere le infrastrutture energetiche, privando i cittadini dell'elettricità e del riscaldamento. Si tratta di crimini di guerra. Parole durissime, a cui Mosca non ha replicato. Il lancio di missili russi sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, dopo che Putin ha detto che l'Ucraina aveva lasciato aperta una via di fuga per i terroristi del sanguinoso attentato di Mosca. L'Unione Europea oggi ha chiesto al governo russo di non utilizzare gli attacchi terroristici come pretesto, motivazione per aumentare l'aggressione contro l'Ucraina. In vito, che non sembra aver prodotto risultati, visto che questa mattina Kiev è stata bombardata con missili ipersonici. I missili sono stati lanciati dalla Crimea e sono caduti in diversi quartieri della capitale ucraina. I soccorritori stanno ancora scavando tra le macerie. Il bilancio provvisorio è di 10 feriti. Due persone sono ricoverate in gravi condizioni. Anche Odessa è stata attaccata nella notte da droni lanciati dall'esercito russo. Non sono state segnalate vittime, ma le infrastrutture energetiche sono state gravemente danneggiate e molti quartieri sono ancora al buio. Cresce il livello di allarme per azioni terroristiche in tutta Europa, specialmente in Francia. Anche Madrid conferma il livello 4 di alerta per rischio attentati. Oggi a Roma si è riunito al Viminale il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza. decisa una intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo da parte delle forze di polizia con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone. La DDA di Bari ha aperto un fascicolo al momento contro i gnoti per fare chiarezza sull'allarme bomba di questa mattina che ha interessato le stazioni ferroviarie di Trani, e Barletta e Bari-Palese. A Trani il sindaco ha chiuso per alcune ore tutte le scuole mentre la circolazione ferroviaria tra Barletta e Bari è ripresa da poco. È un impegno concreto per la pace e quanto chiedono per Pasqua alcune associazioni e movimenti cattolici. Sentiamo Nicola Ferrante. Due colombe che volano più in alto di un filo spinato. Ecco il bigliettino per la Pasqua di sei sigle cattoliche italiane. A Gesci, Azione Cattolica, Comunità Papa Giovanni, Movimento dei Focolari Pax Christi. Auguri di pace accompagnati da una nota dal titolo si alzino le bandiere bianche riprendendo le parole del Papa che tanto hanno fatto discutere perfino fra i cattolici. Non possiamo accettare, si legge nella nota, che solo la guerra sia la soluzione ai conflitti. Ripudiarla significa arrestarne la progressione a cominciare dall'aumento sconsiderato della produzione di armi. Osare la pace significa difendere la legge 185 del 90, cioè quella sul commercio delle armi, che oggi rischia di essere svuotata in un drammatico contesto internazionale, conclude la nota, segnato da guerra e terrorismo. Insieme a Papa Francesco dobbiamo riconoscere l'immoralità della costruzione delle armi e del mercato delle armi. Dobbiamo scegliere una nuova strada, non violenta, per la costruzione della pace, attraverso il dialogo, la solidarietà. La bandiera bianca del trattato, la pace, non la follia della guerra, non come molti dicono, se vuoi la pace prepara la guerra. No, questo non può essere il modo per vivere la Pasqua di un cristiano. Lo chiediamo a tutti noi, lo chiediamo anche ai nostri parlamentari. La pace passa dal disarmo, passa dal dialogo internazionale, passa dalla giustizia sociale, passa dall'accoglienza. Ecco, noi vogliamo una pace così, una pace che sia per tutti e per ognuno. Lo scorso anno in Italia 5,7 milioni di persone sono risultati in povertà assoluta. Un dato rileva l'Istat pressoché stabile rispetto al 2022. Barbara Masulli. Povertà assoluta vuol dire non potersi permettere le spese minime per condurre una vita accettabile, vuol dire non essere in grado di mettere su un pranzo e una cena ogni giorno, vuol dire non riuscire a curarsi. Le persone che in Italia vivono in queste condizioni sono tante, troppe. 5,7 milioni nel 2023, secondo l'Istat, ossia l'8,5% del totale delle famiglie residenti, lo 0,3% in più rispetto al 2022. Insomma, in 12 mesi lo scenario, seppur lievemente, è peggiorato. Numeri che raccontano un grande disagio e che purtroppo riguardano anche molti bambini. I minori che appartengono alle famiglie povere sono 1,3 milione. Si rivolgono a noi soprattutto famiglie, famiglie con minori, gli stranieri risultano molto, l'incidenza degli stranieri risulta molto elevata soprattutto nelle aree del centro e del nord del paese e per quel che riguarda il tema dei lavoratori poveri, lo scorso anno abbiamo dedicato proprio uno zoom rispetto a questo fenomeno. Anche quest'anno possiamo dire che circa un quarto delle persone che si rivolgono a noi ha un lavoro e quindi diciamo in qualche modo fanno fatica nonostante appunto la presenza di un lavoro in molti casi irregolare e un po' come ci dice ISAT, anche un lavoro dipendente. L'incidenza della povertà assoluta individuale è in peggioramento al nord dove le persone povere sono quasi 136 mila in più rispetto al 2022, stabili i valori del mezzogiorno. L'inflazione ha provocato inoltre un aumento del 3,9% della spesa media delle famiglie passata dai 2.625 euro del 2022 ai 2.728 euro del 2023, incremento maggiormente accentuato al sud. La politica, oggi la Premier Meloni era a Campobasso per la firma dell'accordo di coesione e sviluppo, un'occasione per parlare di questioni interne ma anche dello scenario internazionale. Sentiamo Leonardo Possati. Dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, la capacità di deterrenza che l'Europa e l'Occidente sono stati in grado di mettere in piedi sono in realtà la garanzia migliore che abbiamo affinché non ci sia un escalation. Giorgia Meloni da Campobasso dove è andata per firmare l'accordo di coesione e sviluppo torna sul conflitto in Ucraina e sul ruolo dell'Europa. Accolta da una folla di persone che vogliono salutarla e abbracciarla nel suo intervento, la Meloni sottolinea ancora una volta la differenza tra l'attuale esecutivo e quella guida 5 Stelle a cominciare dal reddito di cittadinanza. Io credo che investendo su questo territorio le tue opportunità possono cambiare. Questo territorio non è spacciato, il suo destino non è definito, dipende da quanto può competere ad armi pari e dimostrare il suo valore. Questa è la risposta di chi investe sulle infrastrutture di cittadinanza ed è la risposta che stiamo cercando di dare noi. Il governo, dice la premiera, ha stabilito dei principi per cui non si rischia più che le risorse vadano disperse. Dopo il Molise, subito in Basilicata, anche qui al centro, c'è l'accordo con la regione. L'obiettivo è ridurre il divario tra mezzogiorno e settentrione, tra ricchi e poveri. Per farlo si punta sulle infrastrutture. Dall'opposizione si leva l'accusa di fare politica in favore del centro-destra con i soldi pubblici, insinuando che Meloni punta solo a preparare il campo per le prossime elezioni amministrative ed europee. E a proposito di critica, Angelo Bonelli, di Alleanza Verde e Sinistra, accusa il governo di far saltare la legge sul ripristino della natura. Una destra che ruba il futuro alle generazioni che verranno, che non ha a cuore assolutamente la tutela dell'ambiente, che non ha a cuore la lotta al cambiamento climatico. E dopo la bufera scatenata dal governatore della Puglia, Emiliano, è arrivata questa mattina a Bari la commissione del Viminale per valutare eventuali infiltrazioni mafiose nel comune. Alessio Orlandi. Un incontro breve e cordiale, riferiscono fonti comunali, quello di stamattina tra il sindaco di Bari, De Caro, e componenti della commissione ispettiva nominata dal Ministero dell'Interno. Ai tre funzionali del Viminale spetterà il compito di accertare eventuali infiltrazioni e condizionamenti mafiosi all'interno dell'amministrazione barese. Questa commissione insediata che riceverà da noi disponibilità per audizioni, per documentazione. Abbiamo le porte del comune, sono spalancate. Ma dopo le parole del governatore della Puglia, Emiliano, su un presunto incontro tra il sindaco di Bari e la sorella di un boss, a infiammare lo scontro politico, la pubblicazione oggi su due quotidiani dell'immagine di De Caro con una sorella e una nipote del boss Antonio Capriati in carcere da 30 anni. Non hanno nulla a che fare con le attività dei clan precise al primo cittadino di Bari riguardo alle due donne nella foto, ma il centrodestra va all'attacco. Come mai il sindaco non si è accorto di quanto avveniva nella municipalizzata dei trasporti Amtab, si domandano i parlamentari della maggioranza, e perché negli ultimi otto anni come presidente del Lanci non ha detto nulla sulle 137 ispezioni mentre ha definito atto di guerra quella all'interno del suo municipio. Nessun utilizzo politico della commissione ispettiva, interviene anche la premier Meloni che definisce vergognose le accuse contro il ministro dell'interno Piantedosi. Fanno quadrato intorno al sindaco di Bari le opposizioni De Caro è una persona per bene le parole del leader di I.V. Renzi. Il Partito Democratico accusa invece la maggioranza di usare la commissione antimafia dove ci saranno una serie di audizioni sulla vicenda Bari come un palco elettorale. Presidio dei sindacati questo pomeriggio davanti alla scuola di Pioltello nel Milanese dopo le polemiche seguite alla decisione di chiudere l'istituto per la fine del Ramadan. Tutti i dettagli da Raffaella Frullone. È un'altra giornata di tensione oggi a Pioltello. CGL e Camera del Lavoro di Milano sono in presidio davanti all'istituto Iqbal Masci a sostegno spiegano dell'autonomia della scuola contro tutte le derive intolleranti. La mobilitazione dopo la sospensione delle elezioni nell'ultimo giorno di Ramadan decisione motivata con l'alta percentuale di ragazzi di religione islamica che quel giorno sarebbero stati comunque assenti. Stasera il Consiglio d'Istituto straordinario dovrà decidere se confermare la sospensione prevista per il 10 aprile o accogliere l'invito dell'ufficio scolastico regionale che aveva riscontrato irregolarità nella delibera chiedendo uno stop sulla stessa linea il ministro dell'istruzione Valditara mentre il preside ha incassato il sostegno della diocesi di tre parroci di Pioltello che ieri hanno letto una lettera di solidarietà con la scuola. Intanto anche a Soresina nel Cremonese una preside ha emanato una circolare sul Ramadan in cui si invitano gli insegnanti a tener conto dei cali di energia degli alunni che stanno facendo anche in questo caso è scattato il dissenso di alcuni genitori e la presa di posizione contraria di due consiglieri comunali leghisti che hanno definito inaccettabile il testo. Ora parliamo invece di violenza a scuola. A Roma uno studente viene sospeso il patrigno si precipita in istituto e manda il preside all'ospedale. È solo l'ultimo episodio di un grave fenomeno come ci racconta Clara Iatosti. Una partita come tante categoria Pulcini per intenderci tra i 9 e gli 11 anni nel Ravennate un padre ha presa a calci un giovane allenatore che aveva sostituito suo figlio in campo tutto sotto lo sguardo di altri piccoli calciatori. Il tecnico finito in ospedale ha intenzione di sporgere denuncia come farà anche il preside dell'istituto San Gabriele di Roma dopo essere stato picchiato davanti a decine di persone per aver sospeso uno studente. Meno di una settimana fa una lite su un gruppo whatsapp delle mamme è sfociata in rissa davanti alla scuola. Sette donne si sono affrontate a pugni davanti ad un asilo con molti bambini ad assistere alla scena vergognosa. Consideriamo che vedere un genitore che si comporta in modo impulsivo è un brutto esempio per un ragazzo o per una ragazza a cui magari stiamo chiedendo di controllarsi di fare il proprio dovere di risolvere le cose con il dialogo. Se il genitore è il primo a non essere a non fungere da modello chiaramente tutto il meccanismo educativo si inceppa. E perché i genitori fanno così? Perché vivono ogni stress del figlio come se fosse un proprio stress e reagiscono in maniera adolescenziale identificandosi con il figlio. Più che mai oggi noi abbiamo bisogno di adulti. Otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili di Imperia sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti a innescare le indagini la caduta di un giovane disabile all'interno della struttura. L'inchiesta ha portato alla luce gravi atti commessi nei confronti di alcuni disabili ricoverati vittime di spintonamenti tirate di capelli schiaffi e colpi sulla testa per la procura che non ha proceduto ad alcuna misura nei confronti degli indagati si tratterebbe non di maltrattamenti ma di abuso dei mezzi di correzione. Sparatori in strada questa mattina a Roma nella zona Magliana un uomo di circa 60 anni è stato ferito da un colpo di pistola ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo sentiamo Beatrice Bossi Subito cioè io mi sono proprio gelata quindi sì subito dei spari e poi questa sgommata forte ci siamo messi paura appena ci siamo affacciati abbiamo visto questa persona a terra ha perso molto sangue ma non è in pericolo di vita l'uomo che questa mattina è stato colpito da tre proiettili alle gambe portato in codice rosso all'ospedale San Camillo è piantonato dalla polizia in attesa di essere interrogato dagli investigatori si chiama Walter Garofolo ha 58 anni e lavora in questa officina solo da qualche mese siamo nel quartiere della Magliana periferia sud-ovest di Roma diventata famosa in tutto il paese per la banda che negli anni settanta gestiva gli affari criminali della capitale sembrava che comunque era un quartiere molto tranquillo si era rivalutato tanto e invece poi insomma svegliarsi una mattina e sentire una cosa del genere è una cosa un'esperienza molto brutta sul caso indaga la direzione distrettuale antimafia è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio al vaglio degli inquirenti ci sono tutte le immagini delle telecamere di sicurezza si cerca una panda nera con a bordo probabilmente due persone grave incidente questa notte sulla 1 un pullman partito da Milano e diretto a Roma si è schiantato contro il Gavrei all'altezza di San Cesario nel Modenese è morto un giovane 19enne di origine congolese l'impatto è avvenuto verso le 2.45 l'autista un 56enne di Alatri è stato sottoposto ai test dell'alcol e della droga che hanno dato esito negativo non stava neanche parlando al cellulare ma come da prassi il telefono è stato sequestrato dalla polizia stradale i vescovi della Norvegia sono intervenuti con un documento contrario alla proposta del governo che punta ad estendere la possibilità di abortire fino alla diciottesima settimana di gravidanza ci racconta tutto Cesare Cavoni otto pagine di risposta ad un disegno di legge volto a modificare la normativa vigente dal 1975 per estendere la possibilità di abortire fino alla diciottesima settimana così i vescovi norvegesi denunciano la mancanza di rispetto verso la vita nascente una mancanza dal punto di vista scientifico oltre che politico ed ideologico sottolineano la vita umana inizia con il concepimento e da quel momento merita rispetto scrivono i presuli i vescovi ricordano tutti che la vita non nata è tutelata giuridicamente nella costituzione norvegese che afferma che anche i non nati sono nominati tra gli aventi diritto all'eredità al nascituro possono essere attribuiti infatti diritti e doveri e hanno cioè una propria soggettività che non viene assorbita da quella della madre tuttavia nell'attuale disegno di legge questa parte del diritto norvegese viene dimenticata anzi la parola bambino sparisce secondo il solito meccanismo di camuffamento linguistico le cose non vengono mai chiamate con loro nome ecco quindi che un feto diventa non più un figlio ma una cosa non meglio identificata un grumo di cellule attualmente il record di aborto tardivo è appannaggio di alcuni stati americani che lo permettono fino alla ventunesima settimana ora in Senegal tornato alle urne dopo mesi di proteste tutti riconoscono la vittoria alle presidenziali del candidato dell'opposizione Bassiru Diomaie il servizio di Maurizio Di Schino Sette candidati su diciassette avevano già espresso le congratulazioni a Bassiru Diomaie e Faye per la sua vittoria alle elezioni presidenziali di ieri in Senegal ed è bastato questo nella notte dopo che i primi conteggi delle schede scrutinate lo davano in vantaggio per far scattare la festa tra i suoi sostenitori per le strade della capitale Dakar Anche il candidato della coalizione di governo Amadouba oggi ha riconosciuto la vittoria di Diomaie e Faye al primo turno delle presidenziali di ieri ma bisogna aspettare l'ufficialità del consiglio costituzionale per i risultati delle presidenziali tanto attese svoltesi ieri dopo tre anni di tensioni che hanno fatto temere per la stabilità del paese il Senegale infatti è uno dei paesi più stabili dell'Africa occidentale non ha subito colpi di stato negli ultimi 60 anni inoltre le elezioni si sono svolte regolarmente senza tensioni nonostante la crisi politica degli ultimi anni ma tra i senegalesi è salito il sentimento antifrancia a tal punto da condizionare in modo inedito l'attuale voto presidenziale ecco perché la Francia guarda con interesse a chi succederà al discusso presidente filo francese ma chi sale Bassirudio Maie Faye infatti ha sempre dichiarato di essere contrario ad un rapporto privilegiato con la Francia che ha sottomesso il Senegal fino al 1960 siate universali no ad un isolamento tribale questo l'invito rivolto da Papa Francesco alla comunità nigeriana di Roma ringraziata per la testimonianza gioiosa del Vangelo sentiamo Cristiana caricato comunità sì tribunò la voce è ancora graffiata dalla bronchite Francesco incontra la comunità nigeriana arrivata in Vaticano per incontrarlo volti giovani molti consacrati una famiglia inclusiva a cui il pontefice ricorda l'importanza di rimanere aperti e universali senza chiudersi in un isolamento tribale rischio drammatico in molte regioni del mondo in particolare nell'Africa segnata da lotte interetniche il Papa incoraggia il dialogo e l'ascolto reciproco indicando proprio nella diversità la ricchezza che la diversità di etnie tradizioni culturali e lingue nella vostra nazione non costituisce un problema ma è un dono che arricchisce il tessuto della Chiesa come quello dell'intera società e conservare di promuovere i valori della comprensione reciproca e della convivenza il microcosmo nigeriano a Roma è un laboratorio di comprensione e convivenza pacifica riconosce il pontefice una comunità dove integrare dialogare e valorizzare tutti a partire dalla propria identità un modello per un paese la Nigeria da tempo stagio della violenza di gruppi armati terrorizzato dalla strategia dei sequestri terreno di scontro tra bande criminali in cui militano anche gidaissi da un commando a scopo estorsivo e Francesco oggi ha rivolto anche un messaggio ai giovani di tutto il mondo invitandoli a non scoraggiarsi ad essere speranza viva di una chiesa in cammino ce ne parla Rita Salerno a cinque anni dalla pubblicazione dell'esortazione post-sinodale Christus Vivit Papa Francesco ha indirizzato un messaggio ai giovani di tutto il mondo per invitarli a non lasciarsi mai scoraggiare dai conflitti e dalle crisi perché Cristo vive e ama infinitamente Francesco chiede ai ragazzi di testimoniare Gesù ai coitani e di esplorare vie nuove per portare il suo annuncio di salvezza in tutto il mondo nella consapevolezza che il cammino si illuminerà e anche i fardelli più gravosi diventeranno meno pesanti perché ci sarà Cristo ad aiutare a portarli nel testo il pontefice ricorda la prima GMG a cui ha partecipato d'Avescovo di Roma quello di Rio de Janeiro nel 2013 e prosegue citando il quarantennale del primo grande raduno dei giovani voluto da San Giovanni Paolo II il prossimo 14 aprile che nel contesto dell'anno santo della redenzione rappresentò il germoglio delle future giornate mondiali della gioventù vi portiamo ora al teatro antico di Taormina dove sono iniziati i lavori di restauro conservativo del porticus post scenam il retro della scena che si apre sul maestoso paesaggio dell'Etna e del mare andiamo a curiosare con Antonella Mazza Teruel operai a lavoro sulla collina di Taormina mentre i turisti fotografano il monumento archeologico meglio conservato il teatro che risale al terzo secolo avanti Cristo e ricostruito già in età romana oggi è in fase di restauro a quasi 70 anni dallo storico intervento che apre agli spettatori quella che è una delle più grandi arene siciliane il restauro appena iniziato è inserito in un progetto avviato da un paio d'anni che ha interessato più parti del complesso prima le gradinate poi l'ingresso ora il portico sempre scandito in periodi di bassa stagione per non fermare l'afflusso di visitatori nel corso dei lavori dell'area retrostante la scena interamente finanziati dal parco Naxos Taormina per un importo di 500 mila euro verranno pure acquisiti i dati sui materiali utilizzati per la costruzione del monumento che domina un panorama che va dall'Etna al mare l'intervento appena inaugurato assicura la regione Sicilia sarà ultimato entro l'inizio dell'estate per permettere anche quest'anno l'avvio degli spettacoli serali e dei grandi eventi culturali nel teatro che incanta il mondo con la sua bellezza ora andiamo invece agli scavi di Pompei una straordinaria scoperta archeologica ci svela tutti i segreti e le tecniche edilizie degli antichi romani Caterina Dall'Olio L'ultima scoperta su Pompei riguarda le tecniche di costruzione d'ile dell'antica Roma gli scavi in corso nel parco archeologico in provincia di Napoli hanno portato alla luce un cantiere attivo fino al giorno dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. in particolare nella zona del panificio di Rustiovero dove è stata già documentata negli scorsi mesi una natura morta con la raffigurazione di una focaccia e un calice divino questa volta la scoperta ci aiuta a capire come si costruivano muri e case nell'antica Roma senza la tecnica costruttiva in particolare senza l'opus cementitium degli antichi romani non avremmo nel Pantheon nel Colosseo nelle Terme di Caracalla e qui a Pompei possiamo capire in diretta come funzionava un cantiere antico vediamo le tegole accatastate i mattoni gli attrezzi lasciati qui i conteggi sui muri con carboncino probabilmente relativi allo stesso cantiere poi interviene l'eruzione del Vesuvio e tutto si ferma e possiamo capire in particolare come costruivano i muri gli scavi hanno portato alla luce anche anfore riutilizzate per la calce pesi di piombo per tirare su muri perfettamente verticali zappe di ferro usate per la preparazione della malta e per la lavorazione della calce l'analisi dei materiali e delle tecniche costruttive effettuata con il supporto di un gruppo di esperti statunitensi del MIT di Boston ha portato inoltre alla scoperta di una tecnica particolare l'uso premiscelata secco e solo successivamente idratata un processo che avrebbe permesso di velocizzare i processi edili sia per piccole costruzioni sia per grandi edifici come anfiteatri e acquedotti ma che sarebbe stata usata anche per la ristrutturazione di edifici danneggiati per esempio da un terremoto eccoci tornati di nuovo alla telegiornale con questa notizia una scossa di magnitudo 3.2 è stata avvertita dalla popolazione dell'Aquila nel tardo pomeriggio epicentro il comune di Pizzoli a una decina di chilometri dal capoluogo al momento non si registrano danni a persone o a cose e così siamo giunti al termine del TG2000 grazie a tutti voi per la cortese attenzione prossimo appuntamento alle 20.30 ora vi lascio al meteo e alla diretta della Santa Messa a tutti l'augurio di un sereno proseguimento di serata e a più tardi grazie a tutti